da sempre gli esseri umani per far fronte alle esigenze del vivere si sono spostati da un territorio all'altro in cerca di condizioni di vita migliori agli arbori dell'esistenza quando pochi erano gli strumenti conoscitivi e l'esperienza della vita cresceva assieme alla nostra storia l'uomo era nomade perché il freddo e il caldo lo costringevano a trovare posti che gli garantissero la sopravvivenza la scarsità o l'abbondanza di cibo gli permettevano la permanenza in una determinata area e pochi erano gli spazi ci occupati da qualcun altro col passare dei secoli le cose sono gradualmente cambiate e l'uomo è arrivato a modificare il territorio in funzione delle proprie necessità sono nati l'allevamento e l'agricoltura che davano la possibilità di fermarsi in un ambiente che ormai era stato un po domato e non era più così ostile si crearono nuclei abitativi e al loro interno le interazioni tra le persone si sono pian piano dovute regolamentare per permettere la convivenza pacifica quindi si potrebbe dire che la consapevolezza degli uomini circa i loro bisogni e la conseguente possibilità di farvi fronte si è cresciuta passo passo con l'aumento della popolazione umana e delle esperienze accumulate è altrettanto vero però che aumentando la popolazione umana sono aumentati anche i problemi della vita comune e quali dei bisogni che sempre ci accompagnano a proposito del cibo e delle condizioni di vita dato che alcuni territori erano sono e resteranno per ancora molto tempo ostili in quanto non vi sono ancora le tecniche o anche semplicemente la volontà per renderli idonei al vivere questo porta gli uomini a spostarsi e a recarsi in luoghi che permettono loro di vivere solo che in buona parte dei casi questi luoghi vedevano e vedono già la presenza di altri esseri umani ecco nascere gli scontri perché la paura di perdere qualcosa che si possedeva o che ci si era guadagnati rendeva difficile l'accesso a nuove persone ora amplifichiamo questa dinamica lungo la storia umana e aggiungiamo tutta la nostra intenzione al peccato e al male e ci accorgiamo che quello che si vive in modo accentuato nei nostri giorni non è nient'altro che un copione già scritto e che ci chiede di essere gestito facendoci il meno male possibile tante sono le voci e i giudizi che si sommano in riferimento al fenomeno dell'immigrazione queste voci e questi giudizi hanno un volume molto alto e arrivano a fare un forte rumore di fondo non è certamente facile per noi cogliere ciò che è essenziale decidere in questa situazione di necessità allora vorremmo approfondire la questione e confrontarci per meglio andare incontro alle esigenze che si manifestano buonasera signori oggi con questo video tratteremo del tema dell'immigrazione ci siamo chiesti cosa può succedere nel mondo in questo periodo, in questa situazione così attuale per cui siamo andati per le strade nelle nostre scuole a chiedere alle persone cosa ne pensassero abbiamo raccolto il tutto ed ora ve lo faremo vedere buona visione ciao, cosa ne pensi del fenomeno migratorio? il fenomeno migratorio diciamo che è la piaga del momento è uno dei problemi più grossi che abbiamo nel nostro paese questa gente che fugge dalle loro città, dai loro paesi per in cerca di fortuna qui da noi sono costretti a scappare perché vivono in un mondo di povertà dove comunque specialmente i ragazzi non hanno un futuro e secondo te quali sono i problemi? sì, appunto i problemi, specialmente i ragazzi per problemi di povertà e di guerre scappano perché come dicevo prima non vedono un futuro per loro e vengono a cercare la fortuna qui da noi non c'è la fame, non c'è niente, manca cibo, mancano vestiti e vengono da noi per cercare un futuro migliore e come si potrebbe integrarli? sì, il problema integrazione degli immigrati è uno dei, anche questo, c'è proprio un problema grossissimo perché ci deve comunque aiutare anche lo Stato per inserirli cercare di farli lavorare e avere comunque, cioè capire che le persone che vogliono vogliono lavorare e cercare di dargli un futuro noi abbiamo un indiano che comunque aveva stessi problemi era venuto qui in Italia, anche lui in cerca di fortuna ecco il nostro caso noi l'abbiamo aiutato un agricoltore gli ha dato la casa a uso gratuito e noi invece l'abbiamo fatto lavorare che lavora ancora tuttora nella nostra azienda e l'abbiamo assicurato e l'abbiamo aiutato in questo modo e pian piano lui insomma si è fatto un po' di soldini una persona brava e adesso ha portato qui anche la sua famiglia perché anche suo figlio e sua figlia e lei hanno portato la moglie perché comunque là non hanno un futuro ragazzi giovani, i suoi figli vorrebbero appunto poter integrarsi come si è integrato il papà che lavora bene ed è una brava persona Stiamo facendo un'indagine riguardo al pensiero della comunità lenise sull'immigrazione in Italia lei pensa che sia un effetto positivo o negativo? Anzitutto è preciso che ho lavorato e lavoro da tempo in un centro profughi quindi penso di poter riconoscere abbastanza bene il problema e le dinamiche dell'immigrazione non penso che oggi come oggi ci possano essere degli effetti positivi per quanto riguarda la società italiana rispetto agli immigrati d'altro caso capisco le necessità di chi migra e cerca delle condizioni migliori di vita Crede che ci possano essere possibilità di vera integrazione nel futuro? Purtroppo conoscendo bene gli immigrati e i loro valori di riferimento devo dire che sono completamente lontani dai nostri valori di riferimento ad esempio il concetto di rispetto è molto lontano nella loro cultura tranne rarissimi casi quindi nell'immediato non penso ci possano essere possibilità di vera integrazione con le generazioni future sì quando i figli degli immigrati andranno a scuola l'Africa entrano i ragazzi italiani eccetera ma allo stato attuale con chi è appena emigrato purtroppo no Ci sono gruppi etnici che hanno maggiori possibilità di integrazione? Sì, chi proviene dalla penisola indiana quindi gli indiani, Bangladesh e Pakistan perché probabilmente sono stati colonizzati e sono stati istruiti all'epoca della colonizzazione a valori che sono più vicini ai nostri sicuramente escludo chi proviene dall'Africa più profonda ad esempio i nigeriani i nigeriani sono completamente lontani dai nostri valori di riferimento e secondo me in gran parte sono una minaccia, un pericolo Ciao, sappiamo tutti che in questo momento l'immigrazione è un tema molto discusso noi abbiamo deciso di intervistare delle persone e chiedere il loro parere cosa ne pensi dell'immigrazione? L'immigrazione è un fenomeno a mio parere che sta mettendo a prova la portata culturale dell'Europa e dei singoli stati è un fenomeno che si può definire che va a coinvolgere i singoli stati dal punto di vista sociale, economico e morale e secondo me le sta mettendo a prova per vedere se c'è una reale coesione o se c'è una reale preparazione per far fronte a questo fenomeno Sei d'accordo con i provvedimenti che gli stati e l'Europa stanno prendendo? Ritengo che questi provvedimenti a mio parere siano un pochino calati dall'alto in quanto ogni singolo stato per farla breve è preparato un po' a suo modo ogni singolo stato deve far fronte a una realtà che talvolta è diversa da quella di altri stati prendiamo per esempio il nostro caso come italiani abbiamo l'emergenza nel Mediterraneo sulla frontiera macedone c'è un'emergenza anche lì però strutturata in modo diverso come strutturata in modo diverso quella sul confine a Calais mentre invece il fenomeno sulla manica in Francia è un fenomeno completamente diverso che anche lì vediamo delle realtà che sono veramente sconvolgenti Cosa ne pensi delle reazioni e degli atteggiamenti dei singoli stati? Appunto come dicevo prima le reazioni di singoli stati possono essere le più svariate torno a dire che si può misurare la civiltà la preparazione a portata culturale la preparazione la coesione sociale la questione economica si può misurare nella misura in cui a mio parere sa far fronte a questo fenomeno che come dicevo prima mi sta mettendo appunto a dura prova queste realtà nazionali gli atteggiamenti a volte sarebbero discutibili anche se a mio parere bisognerebbe calarsi bene nelle singole realtà per misurare per andare a cogliere bene il provvedimento ad esempio il fenomeno dei muri che tanto fanno scalpore che tanto ognuno ritiene di dare valutazioni sui quali ognuno ritiene di dare appunto delle valutazioni sia una questione che vada bene bene studiata e ben ponderata a mio parere ritengo che dietro a questi contesti ci siano delle grosse sacche di povertà e dei contesti sociali o culturali veramente poveri penso che comunque fenomeni di chiusura di paura di pregiudizio siano un po' fenomeni che vadano un po' studiati e vadano anche da un punto di vista un po' considerati nel merito in quanto credo che siano un po' l'espressione di una società che ha bisogno di forse di crescere un po' da tutti i punti di vista forse dal punto di vista umano dal punto di vista come dire culturale dal punto di vista magari anche un attimino dal punto di vista etico perché alla fine penso che penso che alla fine sia un fenomeno al quale non ci si possa scappare è bene che la società la società ma a partire dallo Stato e le istituzioni siano attrezzate e si attrezzino per investano anche qualche cosina per riuscire a a creare i presupposti perché la società diventi una società armonica e diventi un attimino capace di far sì che questo fenomeno non ci passi sopra ma sia un fenomeno che siamo in grado di gestire in quanto società occidentale in quanto società occidentale ma succederà il benessere ti ringrazio per l'intervista allora prego come ti chiami? chiamo Grazia che lavoro fai? attualmente sto cercando lavoro ok secondo te quali sono i motivi dell'immigrazione? allora l'immigrazione è un tema molto difficile i motivi dell'immigrazione sono parecchi ora vediamo che molta gente sta immigrando per problematiche come guerra come situazioni molto pesanti nel loro paese quindi sono alla ricerca di neanche benessere ma alla ricerca di qualcosa di liberatorio diciamo così come credi possa essere migliorata la situazione degli immigrati? accettandoli accettandoli perché purtroppo in Italia abbiamo paura di culture differenti e quindi non abbiamo l'idea di accettare e questo è una cosa molto grave credi che in questa situazione l'immigrazione sia una risorsa o un problema? no è una risorsa anche perché tornando indietro qualche anno fa gli immigrati hanno comunque preso posti di lavoro che noi non passatemi il termine non utilizziamo più quei posti non ci interessano più sono sorpassati per noi e quindi loro entrano a far parte di questo di queste attività lavorative che noi non utilizziamo non utilizziamo più ok allora io l'ho bloccato adesso cosa pensi dell'immigrazione in generale? allora è un problema molto forte nel senso che noi italiani diciamo così noi italiani siamo paurosi abbiamo paura del diverso quindi cerchiamo di allontanare queste persone e invece dovremmo saper accogliere accogliere confrontarci anche perché quello che portiamo noi potrebbe essere cosa pensi dell'immigrazione in generale? l'immigrazione per me è qualcosa di positivo quello che sta succedendo negli ultimi anni da noi è una rivoluzione una rivoluzione ma che è positiva positiva sotto tanti punti di vista guardiamo il fatto che nascite siamo a zero e con l'immigrazione invece con queste famiglie giovani che arrivano portano bambini vediamo anche il lato positivo come dicevo poco anzi delle aziende nelle aziende che queste persone riescono a lavorare in posti dove noi non accediamo più e cioè io lo vedo veramente come anche qualcosa che sono persone che ci possono arricchire anche se purtroppo noi italiani abbiamo molta paura di conoscere culture differenti ci troviamo con il professor Leonardo Bugada docente di storia e filosofia presso un liceo scientifico del territorio oggi vorremmo porle alcune domande riguardanti il tema dell'immigrazione si tratta sicuramente di un argomento più che mai attuale particolarmente delicato e complesso non abbiamo la pretesa di trovare delle soluzioni anche perché sarebbe impossibile in pochi minuti il nostro scopo invece è quello di confrontare idee e opinioni per meglio comprendere questo aspetto iniziamo pure con la prima domanda le migrazioni di popoli sono eventi non sconosciuti alla storia dell'uomo per secoli varie popolazioni si sono spostate da un territorio all'altro in cerca di migliori condizioni di vita a suo parere i flussi migratori oggi sono un problema o una risorsa ma io parlo per quello che mi compete ovvero essere un docente di storia e filosofia non ho ruoli politici non ho ruoli da giornalista non ho viaggiato in quei paesi quindi la mia risposta si basa sostanzialmente su quello che ho letto sui libri un po' di televisione qualche dibattito qualche giornale letto e un po' di sensibilità personale ok sicuramente nella storia la storia insegna che quando masse enormi di uomini si spostano ci sono delle problematiche quindi innanzitutto sgombererei il campo da un'interpretazione facile e semplicistica del problema non esistono soluzioni facili così come pretende una certa parte politica o un'altra cioè le parti estreme direi destra e sinistra estreme gli uni facile nel senso di dire risolviamo i problemi da un punto di vista militare con durezza chiudendo le barriere perché in fondo queste persone non hanno fatto niente e nella Costituzione italiana ad esempio c'è scritto che laddove una persona non possa esercitare le sue prerogative democratiche nel proprio paese ha diritto di asilo nel paese italiano che è un principio interessante sicuramente nemmeno la soluzione semplicistica dall'altra parte ovvero un'accoglienza indiscriminata mi riferisco alla parte sinistra dello schieramento che prevede discorsi francamente un po' elitari forse da un certo punto di vista perché poi le situazioni delle città dei paesi non hanno a che fare questi politici in genere sono una torre d'avore possiamo ben dirlo cioè le problematiche le vivono gli ultimi e i penultimi con gli ultimi gli ultimi sono gli immigrati i penultimi sono gli abitanti delle periferie gli abitanti ma non tanto perché sono persone gli immigrati cioè a livello personale ci sarà il buono il cattivo la brava persona e il delinquente sicuramente arrivano in condizioni di disagio quindi anche la persona migliore in queste condizioni non può che creare qualche problema sicuramente ok e quindi dal punto di vista lei crede questi flussi migratori possono portare un minimo di possono essere una risorsa almeno in parte o porteranno e creeranno solo problemi o la conclusione che si riallaccia alla prima risposta è che possono essere un guadagno per lo Stato come vedo io sicuramente le cose possono essere positive nel senso che anche qua riallacciamoci alla storia ci sono stati degli imperi nella storia che hanno fatto del multiculturalismo un fatto estremamente positivo estremamente positivo basti pensare anche alle grandi città europee del 7-8-900 come Londra o Parigi sono città multiculturali e se tu vai a Londra vedi una città che funziona e che ha il quadruplo degli abitanti di Roma che è una città che non funziona servono delle regole ecco questa è la conclusione del mio ragionamento servono delle leggi che pure ci sono e vanno fatte secondo me rispettare sia per cittadini italiani sia perché richiede asilo l'esistenza delle regole è alla base di ogni vigore civile se non c'è la regola e la legge c'è la barbarie ok quindi grazie la seconda domanda è numerosi sono i servizi propostici dai media sul tema dell'immigrazione qual è la prima parola alla quale pensa nel vedere le immagini dei migranti sui barconi o nell'interminabile fila piedi per attraversare le frontiere anche questo è un discorso che l'impatto emotivo deve lasciare spazio alla riflessione pacata razionale sicuramente se no non ne usciamo col vittimismo con l'allarmismo insomma l'impatto emotivo è forte ma dobbiamo avere la forza di lasciare lo spazio alla riflessione la riflessione è questa queste persone non hanno avuto hanno avuto la sfortuna di nascere nella parte sbagliata del mondo così come noi abbiamo avuto la fortuna di nascere nella parte nel primo mondo insomma non è un merito nostro è solo una fortuna e quindi rifacciamoci a quello che direbbe Kant ad esempio un filosofo del settecento cioè facciamo finta che la nostra condizione non è questa se fossimo nati noi in una situazione di guerra come vedremmo la faccenda in maniera diversa quindi sicuramente l'atteggiamento deve essere di lasciare spazio dall'intolleranza al capire al comprendere appunto sostenuti però dalle leggi dello Stato italiano insomma di uno Stato occidentale civile anche perché io non sono di quelli che danno tutta la colpa all'Occidente però è innegabile che alcune guerre siano state condotte anche recentemente con motivazioni non proprio approfondite basti pensare alle guerre in Iraq da parte degli americani o alla stessa Libia bombardata da francesi da inglesi da americani col supporto dell'Italia e che ha destabilizzato tutta una zona sostanzialmente quindi le cose sì è una zona abbastanza irrequieta lungo l'arco della storia noi abbiamo fatto il nostro ok passiamo pure all'ultima domanda la terza domanda migranti e rifugiati non sono pedine sulla scacchiera dell'umanità questa è una delle molte frasi pronunciate da Papa Francesco riguardanti il tema dell'immigrazione può darci un suo parere cosa ne pensa? il Papa fa il Papa e il suo messaggio deve essere universale deve essere per definizione universale cioè deve valere per tutte le genti anche per chi non è cristiano quindi musulmani e cristiani il messaggio del Papa è quello di una benevolenza cristiana nei confronti anche e soprattutto degli ultimi ma mi pare perfettamente coerente col messaggio di Gesù e del Vangelo e dopodiché il Papa farà il suo discorso lo Stato farà un altro che ripeto deve essere secondo me di nuovo quello il Papa non ha come dire non deve gestire un territorio vasto non ha problematiche di tipo politico cioè fa benissimo a fare il suo discorso di indirizzamento generale dopodiché lo Stato provvederà i vari Stati provvederanno ma è loro interesse comunque provvedere in tutta coscienza questa problematica che è a problematica con cui ci dovremo confrontare per i prossimi anni non finisce qui assolutamente e ritorna il discorso della legge e della pratica di come fare per accogliere qui perché tanto queste persone ci sono e stanno scappando da situazioni incredibili quindi il discorso non è se vengono o non vengono il discorso è come fare affinché questa enorme massa di gente che si sposti non diventi un problema ma un'opportunità ok l'intervista è finita la ringraziamo per la disponibilità grazie a lei bene 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 questo è il pensiero delle persone che incontriamo ogni giorno ma ci siamo chiesti che cosa ne pensa chi tutti i giovani è a contatto con questa realtà proprio per questo questa sera incontreremo suor Paolo una suora molto speciale perché non vi svegliamo niente mi raccomando non cambiate il canale di cosa ti occupi? è un discorso molto lungo mi occupo una parola un po' difficile ma poi la spieghiamo dai senza capitano persone che non hanno diritti senza diritti capitano persone che non hanno documentazioni quindi ci sono vivono camminano ma non esistono senza ci sono persone che hanno bisogno di cure non c'è l'ospedale senza medicina senza cure ci sono persone che non hanno più nessuno al mondo senza famiglia relazioni affetti ecco quindi questa è la casa dei senza da quanto tempo ti occupi di questo? di questo sono 25 anni si aprono le porte dell'immigrazione succede che parte una legge voi ne eravate nati nessuno la famosa legge martelli dove si dava apertura alle frontiere allora la madre generale mi chiama e mi dice guarda conosci un po' le lingue un po' in inglese sapevo in francese anche così via e dice qui c'è una difficoltà il direttore dell'ospedale qui fate bene fratelli dice voi siete infermiere se non fate qualche cosa non accogliete non vi date da fare per questi ragazzi ne troveremo parecchi insomma in situazioni gravi magari alcuni ancora verranno insomma subiranno la morte così velocemente allora la madre generale dice ti senti di stare di accogliere un gruppo di erano i pakistani i primi che ho incontrato un gruppo di pakistani di uomini 50 uomini in un'accoglienza in un dormitorio stavano a dormire a mangiare tutti i giorni uscivano io volevo andare in missione io ho fatto una riflessione però mi è sempre stato detto di no allora ho capito che è Gesù che rispone è lui che segna il cammino è lui che segna la tua strada la tua vita e che chiede se è possibile se lo vuoi fare con lui allora ho capito che non io ho la missione ma la missione è venuto a lei dimmi cosa perde l'accoglienza l'accoglienza per me è un gesto sacro accogliere non puoi accogliere col muso non puoi accogliere con la rabbia non puoi accogliere sbuffando accogliere vuol dire è un gesto di finezza di affetto di relazione quindi l'accoglienza direi che è il gesto è uno dei gesti più grandi dell'amore quando un ragazzo e una ragazza si incontrano cosa fa? si accolgono e cosa vuol dire? si accettano cercano di capirsi di comprendersi di camminare la sua stessa onda per poi concretizzare qualcosa ma il primo passo qual è l'accoglienza ma quel passo lì se fatto bene se è vero se è sincero contiene un valore immensa quindi è una cosa sacra è una realtà sacra è un gesto sacro è un'opera sacra accogliere vuol dire proprio portare dentro di te l'altro se lo senti solo vicina siete accolti che non siete solamente seduti vicine per accogliervi ci vuole tutto un movimento del cuore della vita tutto un modo di essere di fare e di dire quindi per me l'accoglienza è qualcosa di sacra quindi l'accoglienza è una cosa sacra Papa Francesco continua a dirlo è una delle opere più grandi l'accoglienza si è fatta nello stile del Vangelo però è chiaro sia chiaro la storia si ripete quindi non dobbiamo fare ghetti fare non so problematiche mettere è la storia la storia non afferma nessuno quando nella storia è lui la storia dell'umanità è sempre stata un esodo che dobbiamo diventare capaci sempre di più di accogliere questo senza questi senza senza patria senza sicurezza senza diciamo un futuro per la parola coniata 25 anni fa va a pennello oggi e per te cambieresti qualcosa della tua vita no no perché mi sento pienamente realizzata mi sento pienamente in armonia con la vocazione che mi ha dato mi sento veramente al posto giusto dove Dio mi ha voluto vorrei vorrei semmai fare meglio fare di più quella parola che ho detto prima dell'accoglienza vorrei che fosse più piena più vera per non capire niente grazie Sor Paolo per questa tua toccante testimonianza abbiamo sentito cosa pensa la gente abbiamo incontrato chi tutti i giorni ha contatto con questa realtà e adesso sentiremo il pensiero di Alvin un uomo che ha vissuto nella sua vita questa esperienza che è stata costretta a cambiare casa ad allontanarsi dalla sua famiglia e a cambiare completamente la sua vita vai Alti ok ben arrivati a tutti diamo il benvenuto Alti stasera è con noi e ha accolto il nostro invito per poter darci una mano a presentare il suo punto di vista la sua esperienza noi da qualche tempo ci stiamo confrontando con delle persone con delle realtà che hanno a che fare con l'immigrazione con l'accoglienza tutti sappiamo bene che negli ultimi tempi l'Europa sta affrontando questo dire tema è un po' umiliante questa realtà problematica che vede spostarsi migrare gruppi di persone flussi di persone in cerca di condizioni migliori allora abbiamo chiesto anche a te Altin che abiti nel nostro comune di raccontarci un po' la tua esperienza tu da dove arrivi Altin? allora praticamente io arrivo dall'Albania centro-Albania Elbas praticamente lì quando sono partito per andare a resta diciamo di lavoro non ce n'era non è che ero così messo male diciamo nel modo di vivere però si faceva abbastanza fatica allora a un certo punto ho deciso diciamo di emigrare e sono partito per andare in Grecia in Grecia sì sono stato in Grecia per circa sei o sette anni e qui scusa qui a che anno siamo quando sei partito? allora quando io sono partito doveva essere penso 93 o 94 adesso non mi ricordo bene bene quindi già oltre vent'anni fa oltre vent'anni fa che io sono andato emigrare diciamo nei paesi dell'Europa sono andato in Grecia ho lavorato per 4-5 anni come accoglienza diciamo i paesani erano abbastanza bravi diciamo i rapporti erano un po' difficili con quelli che rappresentavano diciamo lo stato tipo i carabinieri o quelli che ti fermavano per strada i controlli comunque della polizia erano severi anche se io ero regolare ma c'era sempre questo controllo ogni giorno magari ti fermavano ma anche nello stesso giorno magari ti fermavano per due volte anche se eri già controllato una volta ti facevano sentire che tu non eri dei loro specialmente loro ce l'avevano un po' diciamo con gli albanizi e diciamo poi anche quando noi andavamo diciamo a lavorare il modo di pagamento di come ti trattavano era proprio diverso se tu fossi diciamo un emigrato non venivi pagato nella stessa maniera come andava pagato diciamo il greco una sorta di approfittarsi di chi era lì un po' costretto cercando condizioni migliori dicevano o prendi questo oppure te ne vai ma magari non te lo dicevano così ma si capiva diciamo te lo facevano capire ecco te lo facevano capire più o meno le condizioni erano queste uno diciamo che ci tiene che ci sta o cioè uno che ci tiene di quello che fa che si sente in grado di fare di più magari si sente un po' fastidioso da questo trattamento allora è arrivato il tempo a un certo punto e ho detto basta mi sono stufato parto vado via in un altro paese sono stato diciamo fortunato perché qui già da due anni prima che io partissi dall'Albania c'era già mio cugnato forse da due o tre anni quindi della Grecia sei passato poi direttamente all'Italia no ho deciso di andare in Italia ok ho contattato il mio cugnato insieme al suo cugino che loro stavano qui siccome loro erano venuti prima di me volevo sapere in quale maniera si poteva venire di qua allora il cugino del mio cugnato praticamente aveva lavorato da un greco che faceva l'autista di camion praticamente aveva quasi una quindicina di camion che trasportava da Grecia nei paesi scandinavi di pesche frutti verdure perché in Grecia diciamo si producono tanto scontato questa persona tramite lui tramite il cugino del mio cugnato lo chiamo mi risponde molto educato una brava persona straordinaria gli dico io ho deciso di andare in Italia mi ha detto Bardul che lui si chiamava Bardul il cugino del mio cugnato che tu mi potresti aiutare poi ha detto lui si volentieri nessun problema prima però ha detto devi passare da casa mia un giorno decido di passare da casa sua faccio un po' fatico a trovare la sua casa perché abitava Atene un po' incasinata Atene quindi è una città grossa abbastanza grossa ma forse non diciamo più grossa ma densa come popolazione come messa per come è stata costruita con un po' di fatico lo trovo vado a casa sua molto gentile lui perché di solito i greci sono un po' più più calorosi diciamo più caldi mi dice tu devi far finta che fossi un mio dublante praticamente che io facevo cambio a lui cambio di camion quando lui si stancava dovevo essere io a guidare diciamo in grecia io ero a regolare con tutti i documenti cioè quella cosa lì la potevo fare anche se non avevo la patente abbiamo fatto addirittura una patente falsa non era vera troppo fermi andiamo lì però mi dice così qualsiasi persona che ti ferma quando le dici quando scendiamo dalla nave a me non mi hai conosciuto perché se le dici la verità mi rovini quindi qua già hai capito che qualcosa non stava funzionando cioè c'era comunque un no io lo sapevo di questa cosa qua io ero cosciente che stavamo facendo una cosa diciamo non regolare e praticamente mi dice che se ti chiede qualcuno cioè mi dici che io non ti ho conosciuto per come sei venuto raccontali quello che vuoi ma non dirgli che sei stato con me sono stato nascosto sulla nave sono sceso basta ok le dico andiamo sulla nave andiamo a mangiare sempre come tutti altri arriviamo poi a Ancona Ancona andiamo a scendere dalla nave no prima di scendere gli dico ma io cosa devo a te questo signore qua gli dico a Altin mi dice Altin a me non devi niente stessa cosa che io ho fatto a te fai anche tu qualcun altro cioè in modo diverso ma quel senso lì straordinario lì ho fatto i miei auguri cioè la cosa che mi hai fatto non lo dimenticherei mai perché sia stato davvero straordinario lui ha rischiato addirittura se lo prendevano li sequestravano tutti i camion accusa era per traffico di persone di clandestini favoreggiamento clandestinita clandestinita tutto certo sequestro camion una bella multa poteva rischiare diciamo forse non il carcere però un bel rischio cioè per fare una cosa del genere ci vuole secondo te perché l'ha fatto? semplicemente per fare un favore col ragazzo lì ma anche perché gli albanesi gli stavano a cuore perché diciamo così aveva dei ragazzi che lavoravano per lui erano 3-4 autisti che facevano che lavoravano per lui tutti gli albanesi gli stavano a cuore ma era anche una persona fatta così una persona brava buona comunque scendo nessun problema vado alla stazione dei treni prendo il treno faccio il biglietto diciamo la lingua italiana noi in Albania un po' la parlate a parlare diciamo no però guardavamo sempre i canali in chiaro tipo la RAI tutta in chiaro Mediaset tutta in Albania si vede sempre quindi capivate comunque un po' il parere capivamo facevamo magari un po' fatica a parlare non a capire quasi tutto comunque prendo il treno verso Brescia vedo tutta un'altra cosa diciamo perché la Grecia diciamo come con me diciamo assomiglia un po' all'Albania invece l'Italia è proprio diciamo un paese proprio europeo vedi la differenza una cosa nuova diciamo per me comunque vengo scendo lì a stazione dei treni di Brescia viene il mio cugino non mio cugino mio cugnato con suo cugino che mi aspettano lì con la macchina andiamo a casa mangiamo riposiamo un po' andiamo a bere il caffè poi il resto diciamo per dirti che non ho fatto una grande fatica diciamo venire dalla Grecia in Italia poi siamo venuti qua il modo di lavorare diciamo allora non c'era ancora nessuna legge che si potevano fare i documenti per quasi un anno un anno e mezzo finché è uscito la sanatoria che si chiamava se non sbaglio la Bossi Fini Bossi Fini prima c'era il turco napolitano diciamo quella lì era un po' più semplice per un anno sei vissuto qui in Italia senza documenti senza documenti in nero ma ho sempre lavorato diciamo vuol dire che qualcuno ti ha accolto ti ha fatto lavorare in nero diciamo mi ha accolto il mio cugnato con suo cucino poi di gente che lavorava erano un oratorio facevano intonacatture stucatture lavori in cartongese abbiamo sempre trovato la maniera diciamo di lavorare ma addirittura si facevano anche dei bei soldi per dire beh lavoravi comunque non lavoravo ce la facevamo addirittura anche 10 ore al giorno certo ma anche il signore che ci portava lavoravano delle brave persone allora se tu dici che lavoravo in nero io non lo considererei diciamo come un sfruttamento perché ci ha aiutato tanto per la persona lì ci ha aiutato addirittura di trovare casa ci ha portato di tutto e di più nella casa perché la casa era vuota poi siccome avevo mia moglie che quando io sono andato via da Grecia lei è rimasta incinta con mia figlia che dopo è venuto qua una delle ragazze la conosce che sarebbe lei Bora praticamente è rimasta incinta quando io sono andato via aveva più o meno era 6 mesi mia moglie incinta sono andato via lei è nata in Albania io non c'era quando lei è nata perché non potevo andare senza permesso senza niente non potevo rischiare tornare ancora indietro allora cosa ha fatto dopo che lei è nata erano più o meno 7 mesi ho deciso di portarli qui però non sapevo come allora a quei tempi lì c'erano ancora dei modi sempre non regolari diciamo si pagava per avere un visto il visto era regolare ma si pagava una certa cifra tipo io per portare qui mia moglie e mia figlia ho pagato 8 milioni di vecchie lire quella cifra importante cifra importante diciamo la verità a quel tempo lì forse non ce li aveva ancora i 8 milioni di vecchie lire perché abbiamo dovuto prendere la casa la casa che abbiamo comprato essendo noi senza documenti la signora che ce l'ha data ci ha chiesto come garanzia tipo 5 milioni deve chiedere messa a parte non gli toccava nessuno però lo volevo questa garanzia quindi anche comunque ti ha dato la casa hai comprato o era un affitto? allora eravamo in affitto io adesso ho già comprato perché è passato un po' di tempo allora quella persona comunque ti ha fatto un affitto anche se in realtà non poteva fare non poteva fare cioè lo considererei sempre come un favore certo sono venuto con l'aereo non ho avuto nessun problema sono scesi a Malpensa Milano la cosa strana questa è una cosa che non dimenticherei mai sono andato io e mio cugnato a aspettare mia moglie praticamente suo fratello tu da allora l'avevi più vista? no per due anni io non l'ho vista sentivo solo parlare al telefono poi comunque allora la bella storia che ti volevo raccontare è questa qua quando noi andiamo diciamo vedo mia moglie e mia figlia li abbraccio come normale che fosse andiamo ci viene a tua figlia che tu non l'avevi ancora visto? non l'avevo ancora vista aveva sette mesi o otto se non sbaglio va mio cugnato a prendere in braccio non va va l'altro ragazzo che faceva da autista perché mi ha preso era un ragazzo pakistano se non sbaglio va lui a prendere lei si mette a piangere quando vado io mi abbraccia direttamente senza avermi mai visto magari la fotografia forse no? chi era di sette mesi è piccola piccola proprio io mi sono rimasto male ho detto Dio sei grande perché è impossibile che una persona piccola che non ti ha mai visto secondo me non so ha sentito non so che era il suo papà il legame di sangue cioè secondo me è il regale il regale del creatore certo poi diciamo torniamo a casa poi le cose diciamo erano normali è passata un anno o un anno e mezzo che siamo rimasti qua come clandestini aspetta in quel periodo lì mi è successo un incidente con la moto quando apro gli occhi vedo il controsoffitto bianco era undici e mezzo ho detto ma io cosa faccio qui ma non mi ricordavo di nulla c'era addirittura di fronte a me un signore che aveva circa sessanta sessantacinque anni mi dice Altin sapeva anche il mio nome hai fatto un incidente alle sette del mattino sono venuti lì a prenderti e ti hanno portato qua ma mi era fatto male un po' qua un po' dappertutto ma un disegno particolare verso le botte mi ha detto che i tuoi lo sanno già perché qui c'erano i carabinieri di Verola Nova ti hanno chiesto e tu hai risposto hanno stato le risposte giuste ma io non mi ricordavo di nulla cioè praticamente lui era venuto il marisciallo da mia moglie gli aveva detto guarda che tuo marito ha fatto un incidente stamattina ma non preoccuparti che sta bene non ha niente di grave mi hanno tenuto in ospedale forse per tre giorni se non mi ricordo male poi mi fanno uscire sempre la cosa anche questa calma mi è rimasta sempre in mente quando vengo a casa poi ritorno ancora a lavorare dopo dieci giorni che torno dal lavoro di sole prendevo il pulma da Pavone Mela a Lenu era di solito verso le cinque e mezza quando torno per andare a casa vedo il marisciallo a bussare il mio citofono gli dico marisciallo cosa cerca? ha detto altin sta cercando lei cerchi me beh perché? allora quando hai fatto l'incidente sono venuto qua a chiamare tua mole di quello che è successo e volevo semplicemente chiedere come stai cioè io ero ancora clandestino capito? è un bel gesto guarda che grande uomo guarda come ti è venuto mi ha chiesto stai bene non hai più nessun problema no no grazie a Dio ha detto io non ho più niente comunque ti ringrazio tanto non lo dimenticheria male sia stato davvero un gentiluomo ha detto lui ci mancherebbe altro mi dà la mano mi saluta ha detto ti auguro tutto il bene del mio anche lui sempre allora da allora tu comunque hai fatto io ho sempre trovato diciamo le persone con le quali ho avuto a che fare sempre bravo le persone raramente ma raramente qualcuno cioè in Italia mi sono trovato bene e adesso tu beh la tua storia ce l'hai raccontata ti ringraziamo hai avuto i tuoi concentrare vent'anni in venti minuti è quasi impossibile comunque grazie e ti vorremmo chiedere magari poi possiamo anche ampliare le domande ragazzi visto che comunque anche tu ti documenterai avrai notizie da parte dei telegiornali sentirei anche tu comunque parlare della realtà attuale che ci vede ma diciamo che sono sempre interessato ci tengo cosa ti pensi tu della realtà attuale di Europa che si trova ad accogliere un flusso di persone elevato oppure numeri da considerare importanti più o meno e qualcuno ha delle posizioni contrarie qualcuno favorevole qualcuno espone delle motivazioni di diverso tipo tu cosa ne pensi? allora diciamo così essendo io pure un emigrato non potrei dare mai cioè come dire torto a loro in che senso che diciamo così perché se parliamo adesso ultimamente stiamo parlando solo di emigrati provenienti dalla Siria cioè vivere in un paese dove da tutte le parti è bombardato cioè si fa bombardare si fa loro se vanno via da quel posto lì perché non ce la fanno più stare voi dovreste diciamo immaginare come si fa a partire a piedi a piedi con tutta la famiglia con un bambino direttamente in braccio di 5-6 mesi cioè a partire da 0 anni fino a 10-15 perché se tu vedi le file che fanno loro sono tremende certo c'è tanta gente quindi vanno via perché sono disperati perché se non si secondo me se loro non ci fossero bombardati o fatti di quello che li stanno facendo per nessun motivo perché non penso che qualsiasi persona ha voglia di andare via di casa cioè casa sua è sempre casa sua diciamo sono obbligati e io se potrei aiutare qualcuno di loro se dipendesse da me li accetterei tutti capito? certo e tu saprai benissimo che alcune motivazioni che vengono poste dalla gente ma anche della gente comune mentre si parla del fatto che bisogna controllare gli ingressi nel nostro paese o comunque in Europa è dovuto al fatto che c'è il pericolo comunque legato al terrorismo alla mancanza di controlli e possibilità che queste persone possano essere in qualche modo orientate a farci del male oppure ancora motivazioni forse non così gravi ma che possono alterare la stabilità del paese del tipo non so non c'è lavoro già qui adesso dove vengono e così via certo questi sono aspetti di carattere sociale e culturale che magari vengono per qualcuno prima per qualcuno dopo ma tu dici giustamente c'è una priorità quella gente sta morendo sta male in pericolo quindi sono aspetti che vengono dopo cosa pensi ancora? di quello che io penso praticamente è che si doveva o si dovrebbe fare ancora perché non è mai tardi di cercare di fare in modo che quella gara lì si ferma ora chiaramente noi ora stiamo parlando e poi umilmente non possiamo pensare di risolvere i primi del mondo o anche di sapere cosa si debba fare con certezze perché poi ne viviamo una piccola parte chi è politico chi è responsabile di governi avrà sicuramente altre problematiche vedrà la vita vedrà la realtà con un maggiore se vuoi scenario di aspetti da considerare quindi per noi parlare così può essere facile e difficile quindi chiaramente soluzioni non ne abbiamo però secondo te ti faccio due domande la prima è questa qua i governi attualmente stanno facendo ancora poco per questo aspetto domanda numero uno e poi a chi dice perché poi sono anche tante le persone che vogliono alzare i muri che non le hanno già alzate addirittura non so se in Ungaria o in qualche paese hanno già alzato però a chi dice queste cose a chi vuole magari chiudere le porte non essere accogliente tu cosa diresti queste persone quindi prima domanda riguarda cosa fanno i governi se per te stanno facendo abbastanza e la seconda cosa è cosa diresti le persone che sono ostili che non vorrebbero i governi in senso i governi europei secondo me non stanno facendo nulla anzi stanno facendo sì che lì si peggiora la situazione per conto mio perché continuano ancora a bombardare cioè se tu vai a bombardare cosa risolvi non risolvi nulla con il male non si risolve nulla cioè vai a bombardare cercano sempre di scappare perché tu vedi ogni giorno magari vanno a bombardare i francesi il giorno dopo gli inglesi poi chiaramente gli interventi di bombardamento sono fatti per andare a sconfiggere quelli che ora stanno creando un problema in quel paese il problema lì che tra di loro che loro considerano terroristici c'è gente civile che muore dicevamo prima la realtà è complessa quindi dal mio punto di vista come io lo vedo e invece dicevo le persone che vorrebbero alzare i muri oppure quelli che danno credito a chi dice queste cose o a chi è ostile nel dire rimandiamo tutti a casa questa gente tu cosa diresti loro? io direi cioè allora ma non solo loro ma tutte le persone direi prima di parlare di una cosa bisogna sedersi dalla parte opposta se tu provi a sederti dalla parte opposta magari riuscirai a capire un po' meglio come stanno le cose cioè cercherai magari di dare un po' almeno io giudico sempre così cioè non riesco mai a giudicare cioè mi siedo qua giudico a una persona dall'altra parte cercherò per far dare un giusto ragionamento un pensiero più giusto di sedermi proprio dalla parte opposta ci stai dicendo quindi di metterci nei panni degli altri bravo per dare cioè per ragionare per giudicare proprio come si deve l'unico modo secondo me è di sederti dalla parte opposta bene ora abbiamo fatto questa intervista abbiamo chiesto la tua disponibilità a raccontarci la tua storia la tua vicenda che ti ha visto spostarti dal tuo paese ora ti dico torneresti ancora in Albania adesso tu? se potrei diciamo vivere più o meno come si vive qua volentieri la prima cosa che farei sarebbe quella tu hai là ancora dei parenti quindi? diciamo la mamma e il papà però ogni tanto loro vengono qui però non gli piace stare qui stanno un po' magari un mese due poi vanno via giustamente perché sono cresciuti lì per loro è un po' più difficile stare qua certo perché fanno anche un po' fatica a parlare perché se tu stai qua diciamo noi andiamo tutti a lavorare rimangono a casa quasi sempre soli i bambini a scuola all'asilo uno all'altro quindi stanno qui un mese dopo e non ce la fanno più tornare comunque tu diciamo io se potrei andrei anche domani ok siamo ormai giunti alla fine speriamo che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a riflettere su questo tema ovviamente sappiamo che la realtà è veramente complessa ma questo non ci impedisce ogni giorno della nostra vita di scegliere e di accoglierci nelle nostre fragilità alla prossima e di accoglierci Grazie a tutti. Grazie a tutti.